Una partita però non bella, brutta, dove il Pescara tre palle golle le ha avute, ma anche sofferto nel finale con l'espulsione di Brosco. I tifosi vogliono di più e hanno ragione. Siamo tutti d'accordo che è stata una partita brutta, su un campo non facile, inteso come la possibilità di giocare un calcio diverso da quello che è stato oggi. E' chiaro che noi stiamo vivendo un momento lungo, di difficoltà, che poi inficia anche l'aspetto mentale e psicologico. E' chiaro che noi volevamo ottenere un risultato diverso da quello che oggi abbiamo maturato qua. Però in questo momento dobbiamo trovare delle piccole raggi di luce anche in una prestazione difficile, perché il campo, l'avversario, la portata ad essere così. Quindi forse noi che non siamo idealmente costruiti per una partita sporca di seconde palle, perché comunque il campo, e non è un alibi sia per noi che per loro, toglieva delle possibilità di giocare, almeno sotto il piano dell'atteggiamento difensivo qualcosa credo di buono abbiamo fatto. E' chiaro che vorremmo fare altri tipi di prestazione, però è chiaro che anche in situazioni di difficoltà avere tre palle gol e magari capitalizzare il poco che si crea in una partita, come ce ne sono tante in Serie C, potrebbe essere anche una caratteristica delle squadre forti. Oggi e noi, anche quando riusciamo a creare due sicuramente limpide con Desogus e magari qualche altra possibilità di far male e non concretizzi, è giusto poi che ti rammarichi di non essere riuscito a portare a casa la posta piena. Due mie considerazioni. La prima sul nuovo sistema di gioco con Cuppone dietro a Facundo Lescano, Raffiae, Desogus e Larghi. Era un sistema di gioco per l'emergenza centrocampo? Oppure, visto anche il mercato con l'arrivo di Merola e la mancata partenza di Colai, la costringerà a utilizzare praticamente tanti attaccanti e quindi può essere questo il nuovo sistema? La cosa sì, è tutto possibile. Diciamo che anche questo sistema verrà tenuto in grande considerazione. Però se facciamo un conto matematico, oggi con quattro attaccanti non sei comunque riuscito a fare gol. Quindi non è per forza il numero di attaccanti che ti portano ad essere più o meno pericolosi. Io credo che sia un atteggiamento che dobbiamo ricostruire piano piano perché, ripeto, le difficoltà oggi derivano da tanti punti di vista e, secondo me, primo fra tutti quello psicologico. perché quando poi sei giustamente contestato dalla tua tifoseria, poi non sei completamente sereno. Ma dobbiamo accettare perché ce la siamo, tra virgolette, costruiti noi questa difficoltà e ora, da soli, da bravi professionisti, dobbiamo cercare un gradino alla volta, in mezzo alle difficoltà, di ritornare ad essere più sereni e più fiduciosi delle nostre qualità. Ultima mia, contento del mercato o preferiva avere meno giocatori da dover gestire lì davanti? No, è chiaro che quando c'è abbondanza si chiederà anche una grande partecipazione da parte dei giocatori, sapendo appunto che ci sarà tanta competizione, a volte qualcuno non giocherà, quindi la difficoltà sarà più nella gestione. Mi auspico appunto che ci sia questa collaborazione da parte dei giocatori. Per il resto, ripeto, sono felice di chi è arrivato perché, per esempio, Raffià oggi ha dato, secondo me, una grande dimostrazione di quello che è il suo potenziale, chiaramente poi aumentando le capacità condizionali, fisiche, visto che era un po' che non giocava, sicuramente migliorerà anche sotto tanti altri aspetti, ma, ripeto, questo è un giocatore che ci può dare una mano. Merola, insomma, lo conosciamo tutti e di conseguenza vediamo poi Gozzi, insomma, che anche lui sicuramente con Mesic ci daranno ulteriori cartucce da sparare. Una domanda una per il tecnico Colombo, che poi ci deve salutare. Che rivolgerà al tecnico, che saluto naturalmente, Fabio Ferraresi. No, io al mister, agganciandomi anche all'ultima considerazione, volevo chiedere due cose. Una su Raffià, che secondo me è un giocatore che renderebbe sicuramente di più, dal mio punto di vista, vicino alla porta e sicuramente dietro alla punta. E poi, in considerazione del fatto che magari oggi aveva intenzione di far giocare l'Escano, forse qualche minuto con il Foggia, visto il risultato anche che era un po' compromesso, poteva rifagglielo fare, perché poi oggi, secondo me, si è vista che aveva un po' di difficoltà, proprio dal punto di vista della tenuta fisica, rispetto a come eravamo abituati a vederlo. No, allora, è chiaro, visto il risultato, visto la situazione, non metterlo o metterlo in campo mi sembrava quasi un ulteriore insulto al ragazzo, una presa in giro. Quindi non ho voluto fare questo, perché il risultato era ampiamente compromesso. E credo che, insomma, vedendola dalla panchina c'erano più le possibilità di subire altri rigoni in ripartenza che il rischio di farli. E quindi non volevo passare per quello che prendesse in giro un giocatore, visto quello che è successo, in un momento dove appunto si era ristabilita una certa condizione. Raffià, sì, può essere vero che è un giocatore abituato, o che potrebbe rendere anche nella zona centrale di campo, visto comunque oggi ho pensato che centralmente ci fossero pochi spazi, visto che si lavorava molto su seconde palle, sapevamo che il campo non permetteva molto di giocare. E quindi pensavo di attaccare lo spazio con dei giocatori come cupone e lui che potesse avere un po' più di tempo per rifinire dall'esterno. Ecco, questa è stata la considerazione. Però è chiaro che poi noi siamo figli in questo momento di un sistema che ci portiamo da alcuni mesi, che per buona parte di questi mesi ha dato dei segni positivi. Oggi va anche trovato una quadratura o un equilibrio, soprattutto con i centrocampisti, che devono avere delle qualità diverse per coprire un po' più di spazi se tu hai un sistema come quello usato oggi. Grazie.